FedEx al secolo Federico Lucia di recente ha pubblicato su Instagram una diretta in cui ha annunciato che a X Factor ci sarà in modo regolare nei giudici il 26 ottobre per la prima puntata di questo bellissimo talent show targato Sky. In particolare il buon FedEx avrebbe detto a Bucci mi hanno fatto oggi il certificato medico per partecipare a X Factor. Sono meglio e della prossima settimana finalmente tornerò anche ad allenarmi. Domani vi ricordo che andrò in onda un visit che è stata già registrata. Insomma un FedEx in ottima forma fisica mi sembra di capire che finalmente ci sarà a X Factor nella puntata prima del 26 ottobre 2023. Mancano ormai pochi giorni, non tanti, non molti. Si è ripreso a livello di salute dopo il problema che ha avuto poco tempo dietro. Vi ringrazio in primis per la visione e in secondis per l'ascolto di questo video di oggi carissimi esimi utenti di Youtube. Iscrivetevi al canale mi raccomando, il narratore italiano, commentate. Un caro saldone a voi. P.S. questo video non vuole rendere la private di FedEx al secolo Federico Lucia ma solo informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo non per altri motivi. Ciao a tutti e una buona giornata a voi.